Lentini, sorpreso con la droga addosso, scattano sequestro di veicoli e sanzione per violazioni e cancia all'illegalità. Nell'ambito dei servizi di prevenzione e sicurezza predisposti per il periodo estivo, i carabinieri delle compagnie di Augusta, Siracusa e Noto hanno intensificato i controlli nella zona nord della provincia. In particolare nel comune di Lentini sono state controllate 74 persone e 56 veicoli e sono state contestate violazioni al codice della strada per oltre 1.500 euro per la mancata revisione periodica dei veicoli e la circolazione senza la copertura assicurativa, oltre a contestazioni amministrative di varia natura che hanno comportato complessivamente la sottrazione di 20 punti dalle patenti di guida e il sequestro amministrativo di un veicolo. Inoltre sono state controllate 10 persone sottoposte a misure varie e un giovane del luogo è stato segnalato alla prefettura di Siracusa quale assuntore di stupefacenti poiché trovato in possesso di modica quantità di hashish e marivana.